Allora, era scritto, anche se in un articolo di Repubblica, di qualche tempo fa Greta Thunberg l'hanno mandata agli alieni Si vede anche un po', capito? Perché c'ha queste trecce E chi è che c'ha le trecce? Poi va a parlare con Draghi, non è che è una ragazzina svedese così Eh, va a parlare con... è il primo ministro qua, il bancarottiere Allora, gli alieni adesso arriveranno Però noi abbiamo voglia di qualcosa di nuovo Perché i film, 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 telefilm alla tv sui alieni li abbiamo già visti Se te arrivi qua con il disco volante, scendi che sei un po' verde Ci abbiamo già Salvini noi, capito? Al circolo Arci parliamo già male dei Salvini Non abbiamo bisogno dell'alieno Ma devi venire qua con una trovata un po' nuova Vai a casa, non so, della Barbara D'Urso la domenica A casa di qualche deputato di qualche partito piccolo così Che magari ci dà un po' di visibilità Perché noi, la nostra credibilità al bar è importante E non possiamo andare lì e dire Eh, ma ha rapito l'alieno Perché avrebbe dovuto rapire te? Sei uno semo come tutti gli altri Eh no, perché adesso sta facendo gli esperimenti sui deficienti Ma non... Cioè, questo alle ragazze non interessa, capito? Serve qualcosa di più interessante? Grazie a tutti